E come ogni anno Pistacchissimo vi aiuta nella ricerca delle migliori rame di Napoli al pistacchio ecco quelle di Pastry Chef che trovate presso Arancì in via Principe Nicola perché ricordo non hanno più il punto venta in via Teatro Massimo E qui abbiamo la rama più classica quindi impasto al cioccolato e crema di pistacchio guardate che colore mamma mia Siamo su livelli assurdi a parte l'impasto che si scioglie in bocca la crema di pistacchio è pazzesca Nuova rama con impasto al pistacchio e sopra crema ruby Non è bilanciata bene ma a me le creme al cioccolato ruby non fanno impazzire E qui invece abbiamo l'impasto al pistacchio guardate che colore è la solita spettacolare crema sopra quindi già immagino il sapore Mamma mia E la pistacchio si deve proprio a livelli esagerati Mi sente anche proprio la farina di pistacchio mentre mastichi Mamma mia Top 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 Al prossimo episodio